Perchè Leggerlo 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 Nel Presente Parlando di Shonen Non Possono Diciamo Raggiungere Quel livello Lì Secondo me Kenshiro Siamo proprio Un livello Superiore Alli Shonen Che ci sono Ultimamente Sul mercato Ecco Ovviamente Dire che non è un manga crudo Non sarebbe La risposta giusta Perchè appunto E' crudo C'è molto sangue Molta crudeltà Eccetera Però Non è eccessiva Ecco C'è Per carità Perchè ce n'è In abbondanza Anche però non è Quell'abbondanza incredibile Se posso dare una piccola nota Di questo fumetto Che non mi è piaciuta Ma fino a un certo punto Appunto Il fumetto Posso dirvi Si divide in due Praticamente Abbiamo una prima parte E una seconda parte Abbiamo la prima parte Dove c'è proprio la storia principale E poi una sorta di Storia secondare Nella seconda parte Che non è appunto Stata caricata A livello di animazione Quindi a livello di anime La seconda parte Comunque ti spiega Pienamente Molte cose Che si ricollegano Mentre la prima parte Quindi Non è uno spin off Ma appunto Un proseguio Come votazione ragazzi Cosa posso dare Non do 10 Perchè 10 è il voto perfetto Però un 9 Glielo do pienamente Ovviamente Perchè E' stupendo C'è un manga che Rileggerei molto volentieri Che è difficile Che io trovi un manga Da rileggere Però questo lo rileggerei Molto volentieri E niente ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto questo video Vi ringrazio ancora Per il supporto Che sta dando a questa serie Vi ricordo Che in descrizione Ci sono tutti i miei link Dei social Instagram Per star giornate E Twitch ragazzi Sono in live Da martedì a giovedì Dalle 21 e 20 Lasciate un bel mi piace Condiviate il video Con gli amici E niente ragazzi Per questo video è tutto E noi ci vediamo In questi giorni Con un nuovo video Beh ragazzi E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo